In A2 la SIE Cortona continua a stupire. Perde due set a Cantù, poi si ricompatta e stravolge ogni cosa espugnando la Brianza. Lo fa con personalità e un filo di ribellione contro il destino perverso che imtiedisce da una vita al sestetto di lanci di giocare al completo. Assente ancora il forte Cantagalli, trova comunque un'altra serata di Grazia di 7, 23 punti e 5 ace, ma anche di Marinelli, Carelli, Menicali, di tutti insomma. E domani ecco il primo dei due recuperi interni alle 20.30 contro il Reggio Nell'Emilia in un autentico spareggio per la Quinta Piazza per ora. Perde di nuovo e sono tre di fila la Bapineto che scivola al quarto posto, 3-1 in quel di Galatina, ma stavolta sul campo di una fortunata capolista niente va rimproverato al team di Rosichini. Parlano i parziali a 23-24 e a 25-3 set persi, a 19 è quello vinto. E' mancato un soffio di concentrazione in più in coda, soprattutto nelle battute. Il tutto a vanificare la serata mostruosa di Morelli, 35 punti e 64% in attacco. Peccato, ma i segnali di ripresa sono evidentissimi. Si conta in uno sprint increscendo nelle ultime tre gare della prima fase. La strada verso il traguardo è ancora tutta spalancata. In via riposo per Alba e Paglieta, non gioca nemmeno Chieti nell'orbita femminile di B1, dove scivola, con poca buona sorte e un po' sorpresa, l'altino. A vincente, derby di B2, dove a Teramo la Rabona di Cesarone fa il colpaccio, 3-1 nelle immagini, e resta a meno uno dalla vetta, dove domina il porto Sant'Elpidio. Primo successo interno e secondo consecutivo, infine, del Pescara 3 che batte 3-0 nelle immagini, col cuore e la voglia matta di farcela un buon pagliare del Tronto. Percorso nuovo, quello intrapreso dalle ragazze di Mazzuccato, giovani e brillanti, attese al barco con curiosità e fiducia. Grazie a tutti.